un panchettino, una parete e volendo per estendere l'esercizio possiamo utilizzare poi una corda o un elastico. L'esercizio è molto semplice, noi ci posizioniamo seduti cercando di percepire un corretto appoggio di entrambi i glutei nel nostro piano, ci posizioniamo la nostra palla nella zona lombare dove abbiamo l'incavo che è quello che generalmente ad oggi va a perdersi. Da questa posizione qua con le mani appoggiate comodamente sulle ginocchia noi faremo un movimento che induce una contrazione importante dell'addome risucchiando l'ombelico e una spinta posteriore sulla nostra palla. Grazie a tutti! Grazie a tutti!